La giunta di Oliveri guidata da Francesco Iarrera ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione dello spazio compreso tra la via Vincenzo Bellini e la via Gaspare Amodeo e di via Roma, redatto da responsabile dell'area tecnica, ingegnere Nunziato Chiofalo, in porto dell'intervento che si è finanziato e destinato a cambiare radicalmente il centro del paese, 960 mila euro. Il bando dell'assessorato regionale infrastruttura e mobilità scadeva ieri e riguarda la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretta ai comuni con popolazioni inferiori ai 60 mila abitanti. Tra gli altri sarà demolita tutta la pavimentazione degli spatti pedonali, rimossi alcuni pali della pubblica illuminazione e poi saranno rimessi a nuovo tutti gli impianti con pavimentazione in pietra locale, l'arredo urbano ed il verde pubblico. Nel contempo uno spazio pubblico ha già cambiato nome, si tratta della zona prospicente lato monte, della strada ferrata e lato mare del campo sportivo. Così aveva deliberato l'esecutivo nel 2019 e domenica 4 luglio si è proceduto all'intitolazione al professore Adolfo Parmaliana, morto il 2 ottobre 2008. Un'intitolazione che ha trovato le sue ragioni nel fatto che Parmaliana, professore ordinario di chimica industriale presso l'Università di Messina, era considerato uno dei massimi esperti nelle ricerche delle nuove fonti di energia rinnovabile. La proposta era stata segnalata dal Movimento Cirano e su questa ha deliberato la commissione consultiva della toponomastica. Numerose le testimonianze dei presenti, Mario Valenti, Nadia Furnari, Beatrice Torre e l'avvocato Mariella Cicero. Con la voce spezzata dall'emozione, Cettina Parmaliana, vedova del professore, ha ringraziato tutti gli intervenuti, l'amministrazione comunale e il sindaco, che ha avuto il coraggio e la tenace di intitolare quest'area ad Adolfo.